Sono Giovanni Pizzo, abito al Chiodare. Sono nato 66 anni fa a Due Carrare, Carrarese-Doc. Ho fondato la protezione civile a Due Carrare quando sono andato in pensione. Sono stato coordinatore della stessa protezione civile fino al 2007, consigliere comunale dal 2005 al 2010. Ho imparato il funzionamento della macchina amministrativa e ho fatto un'esperienza grandissima. Partecipo a questa lista praticamente perché dal primo momento ne sono stato entusiasta e ho condiviso gli ideali di innovazione e trasparenza. Desidero così fortemente poter portare il mio contributo al Paese di Due Carrare. Votate Davide Moro, sindaco, mettendo semplicemente una X sul simbolo praticamente e se lo volete scrivete Giovanni Pizzo come preferenza. Vi ringrazio. Grazie per la visione!